Un incendio divampato nella mattinata di venerdì 8 ottobre in un capannone industriale situato in via Paolo Veronese a Torino. Le fiamme hanno avvolto un deposito di materiale elettrico ed elettronico e una grossa nube nera stelzata in cielo. Sul posto sono intervenuti numerose squadre dei vigili del fuoco, l'NBCR e il funzionario di servizio. Una persona è rimasta lievemente intossicata ed è stata trasportata in ospedale. Grazie per la visione! Grazie per la visione!